Bandiere a mezzasta, un minuto di raccoglimento, insegno di cordoio e partecipazione. L'amministrazione comunale si stringe al dolore di una città intera per la perdita di una giovane vita innocente. Pasquale Romano aveva 30 anni, era un ragazzo per bene, ma il suo destino si è scontrato tragicamente con la faida tra clan per il controllo delle piazze di spaccio. Noi ce la possiamo fare, perché ormai la stragrande maggioranza delle persone, infatti persone per bene, lo testimonia l'appello di Rosa della fidanzata di Pasquale che non ha avuto per un attimo il tentennamento di andare via. Noi amiamo Napoli, sono gli altri che la vogliono distruggere e se non cedono le armi se ne devono andare. Per esempio credo che adesso gli assassini di Pasquale si devono immediatamente consegnare alla giustizia, non devono aspettare un attimo di più e chi ha visto deve parlare perché avrà la protezione di tutti noi, del sindaco, delle forze lordi e della magistratura e di tutti i napoletani onesi. Chiunque può, se si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, può essere una vittima di azioni violente e delittuose. E quindi questo genera appunto l'insicurezza e noi dobbiamo cercare di contrastare tutto questo attraverso buone leggi, attraverso risorse per migliorare l'apporto della magistratura, delle forze dell'ordine, della giustizia per cercare ancora la responsabilità di chi commette fatti come questi e il ristoro alle vittime. E' importante tener vivo il ricordo di tutte le vittime innocenti, voltare le spalle alla criminalità organizzata e combattere per una società migliore. Il messaggio risuona forte nello spiazzale del Tribunale e anche dai rappresentanti della giustizia napoletana. Questa mattina la presenza di istituzioni, associazioni anti-racket e delle vittime della Camorra, la cerimonia di intitolazione del Comune di Piazza Cenni a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati vittime delle mafie. Le mafie senza il rapporto con le istituzioni e la politica sarebbero state già sconfitte, quindi noi vogliamo anche sempre sottolineare come amministrazione questo aspetto, che la lotta alla Camorra viene anche dalla politica, non solo dalle forze dell'ordine, dalla magistratura e dai cittadini, tutti insieme ce la faremo. La cultura della legalità è la risultante di una serie di atteggiamenti, di condotte, di serietà, tutte improntate a una maggiore serietà nell'esercizio del proprio dovere. Se ciascuno fa la sua parte, già avremo fatto moltissimo.